L'esposizione a contaminanti rappresenta la nostra quotidianità. Il Bio Science Research Center è un centro di ricerca privato che si occupa di fornire servizi altamente qualificati di analisi nel settore ambiente agroalimentare e salute umana. Il nostro personale è costituito prevalentemente da ragazze di cui una percentuale molto elevata da ragazze molto giovani under 30. Tutti noi viviamo esposti alla minaccia di quello che può essere considerato un nemico invisibile e che è rappresentato dall'esposizione quotidiana attraverso l'alimentazione, l'ambiente in cui lavoriamo e l'aria che respiriamo ai contaminanti, inquinanti ambientali in forma chimica e in forma di particelle e nanoparticelle. Un nemico invisibile è un qualcosa di cui avere timore ma che noi non vediamo. Oltre il 50% della popolazione europea assume attraverso l'alimentazione un livello di contaminanti superiore alla soglia stabilita dall'EFSA. Il tema della contaminazione degli alimenti è una problematica che viene percepita come qualcosa di ineluttabile nei confronti della quale c'è poco che si possa fare. Il Bioscience Research Center lavora per migliorare la consapevolezza degli stakeholders nei confronti delle azioni che invece possono essere intraprese per ridurre l'ingestione e il contatto con i contaminanti ambientali. È importante studiare quali saranno e quali sono già gli effetti della contaminazione anche in relazione ai cambiamenti globali del nostro pianeta a cui andiamo incontro. Comprare servizi da Bioscience Research Center è uno strumento per finanziare la ricerca scientifica e un esempio applicativo di questo è stata la realizzazione dell'app Ultrabio, un servizio completamente gratuito al cittadino e anche ai professionisti, quali dietologi e nutrizionisti, che vogliano monitorare il livello di contaminazione assunto attraverso l'alimentazione quotidiana. Questo strumento permette a tutti i cittadini di autogestire la propria esposizione mediante un sistema che tiene conto sia delle quantità e delle tipologie di alimenti introdotti nella propria alimentazione ma anche delle caratteristiche personali dell'individuo. Avere la possibilità di lavorare nel settore per cui ho studiato, poter fare un lavoro e ricerca proprio in quello che volevo, in ciò per cui ho davvero passione, la soddisfazione più grande potessi avere. Siamo fortemente convinti che i risultati delle nostre ricerche possono portare a un miglioramento delle conoscenze di base necessarie a definire attività, interventi, linee guida e strategie per il miglioramento della qualità complessiva della vita e della salute della popolazione. Grazie!